Siamo qui oggi a Savignano, al Seven di Savignano con i ragazzi di Cascina Biblioteca, una cooperativa ONLUS di Milano che è già la seconda esperienza. Questo è il secondo anno che ci viene a trovare con i suoi ragazzi con varie disabilità. Hanno provato talmente tante emozioni l'anno scorso che hanno voluto assolutamente tornare a trovarci. Sono stati tutti talmente contenti, hanno provato emozioni talmente forti che molti di loro stanno ancora riprovando per la seconda volta. Siamo quindi molto contenti e credo che questa esperienza continuerà. Cesena in Blu si occupa delle disabilità, di portare sott'acqua i ragazzi con le disabilità. Il nostro scopo è quello di fare integrazione sociale ma soprattutto di aiutare queste persone a una crescita personale attraverso la subacquea. FENOMENALE! FENOMENALE! Grazie! Bellissimi esperimenti!